Avranno mai dei volti i responsabili della vergogna d'Abruzzo? Qualcuno pagherà per il disastro ambientale della discarica dei veleni di Bussi? La Procura ha chiuso l'inchiesta lo scorso febbraio. L'udienza preliminare davanti al Gup Deninis ci sarà il prossimo 9 luglio. 27 gli indagati, ex amministratori di Acaiato, dirigenti ASL, rappresentanti di grandi colossi industriali quali Ausimonte e Montedison, che attorno si erano insediate nel polo chimico di Bussi. Tra loro i terminali, forse, di una triste storia che risale a mezzo secolo fa, quando i controlli erano più leggeri, quando la spregiudicatezza superava di molto i limiti del buonsenso, del rispetto della natura e delle generazioni future. Per anni ed anni decine di tonnellate di rifiuti tossici, di sostanze chimiche quasi impronunciabili erano state nascoste sotto i pochi metri di terra in quattro discariche, una accanto all'altra a ridosso del fiume Pescara. Nessuno ha visto o ricorda, nessuno ha mai denunciato uno strano via vai, magari notturno, di camion, per decenni. Poi il silenzio rotto dalla natura, che, ferita nel nuovo millennio, comincia a sanguinare. Nel 2005 sostanze inquinanti compaiono nei pozzi di Castiglione, un colpo duro e inispiegabile per chi, nel cuore dell'Abruzzo Regione Verde d'Europa, raccoglie e distribuisce acqua, ma anche per chi controlla. Una vicenda gestita male, con leggerezza, addirittura dolosità? Sarà la magistratura a stabilirlo. Intanto, è il 12 marzo del 2007, quando il comandante della forestale Conti ed il magistrato Aceto mostrano a tutto il mondo il cancro che stava consumando il cuore della Regione Verde. Il primo pensiero andò a Solvei, ma è solo l'ultima di insediarsi in Val Pescara, ed anzi si ritiene parte offesa nel procedimento contro i precedenti occupanti dell'area, che, nel frattempo, hanno già cominciato lo scaricabarile. Non hanno nemmeno il coraggio di ammettere il loro squalito comportamento, forse anche lo schiaffare di smaltimenti evidentemente illegali. Dovrebbero pensare a come chiedere perdono alla natura e a noi che siamo suoi figli. Ed invece, potete scommetterci, staranno lì, già prima del 9 luglio, a cavillare, ad allungare i tempi per insabbiare, come hanno già fatto con tonnellate di vedeni, nel cuore verde della Regione dei Parchi.